La Basilica di Colle Maggio a partire da oggi resta chiusa per motivi di sicurezza, ma i fedeli potranno ugualmente ricevere in dono l'illugenza plenaria in occasione della perdonanza celestiniana edizione 2013. A diffondere la notizia il Comune dell'Aquila nel corso di una conferenza stampa convocata alla presenza del Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e degli Assessori alla ricostruzione Pietro Di Stefano e alle opere pubbliche Alfredo Moroni. Secondo quanto stabilito da uno studio condotto dall'Università degli Studi dell'Aquila in collaborazione con l'Istituto Politecnico di Milano, la Basilica di Colle Maggio, in caso di evento sismico, non è sicura. Da qui la decisione, concertata con il Prefetto e con l'Arcivescovo dell'Aquila, di chiudere al culto i locali della Basilica, anche se l'apertura della Porta Santa sarà garantita, seppur in forma costretta, in un percorso esterno che i pellegrini del Giubileo avranno la possibilità di percorrere. Intanto la Giunta Comunale ha approvato, proprio in data odierna, il contratto di sponsorizzazione per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Basilica, con i 14 milioni di euro dell'ENI. 12 milioni serviranno a sponsorizzare il recupero architettonico della Basilica di Colle Maggio nei tempi stabiliti entro l'anno 2016. Altri 2 milioni di euro, invece, serviranno a finanziare la riqualificazione complessiva della zona Parco del Sole, dove sorgerà, tra le altre cose, anche un teatro all'aperto firmato Beverly Pepper, scultrice di fama internazionale, sotto l'occhio vigile di un capillare sistema di videosorveglianza che verrà installato in tutta la zona. La sicurezza statica e sismica della Basilica, puntualizza il primo cittadino, è stata tenuta sotto monitoraggio nel corso di questi quattro anni, in cui già si conosceva approssimativamente la data di scadenza dei puntellamenti, stabilita in circa tre anni di vita. Gli interventi fatti nel 2009, lei ricorderà che la chiesa fu riaperta come cattedrale a notte di Natale, il 24 dicembre 2009, quelle strutture avevano una previsione intorno ai tre anni. A questo punto noi abbiamo commissionato uno studio molto accurato all'Università dell'Aquila, il professor Gariota, il professor Emiliani e al Politecnico di Milano, studio che si inseriva anche negli studi preliminari per fare il progetto preliminare e a questo punto il risultato qual è? Che da un punto di vista statico, la Basilica è sicura, vanno solo rimesse a posto un po' i tiranti, i fascioni che reggono le colonne, però questo lo stiamo facendo anche negli edifici puntellati nel centro. Mentre c'è per le caratteristiche dell'edificio e i danni che si sono manifestati in modo ingravescente rispetto al 2009 e al 2011, c'è una scarsa sicurezza in caso di una scorsa tellurica importante. Di fronte a questa ipotesi, che ha una percentuale voglio dire di una su un milione, una su un miliardo, ma noi in ogni caso ci siamo interrogati e ritenendo la sicurezza perché prima di tutto abbiamo deciso di chiudere la Basilica, cioè non toglie che, sebbene in modo diverso, un po' come facemmo nel 2009, la perdonanza verrà celebrata ugualmente e che oggi la Giunta Comunale, alle 15, ha approvato la variazione di bilancio che permette di attuare il protocollo che abbiamo chiuso con Eni. Abbiamo fatto oggi la delibera della variazione di bilancio, istituendo il capitolo di entrata e in uscita, il dirigente preposto ha fatto la determina, ha inviato la determina ad Eni, che sta procedendo a tutti gli atti, quindi diciamo che abbiamo chiuso tutta la fase di reperimento del finanziamento sia per la Basilica che per il Parco del Sole e il suo recupero. Io credo che sia una cosa importante perché 12 milioni di euro sono una cifra a cospicua, questo significa che finita questa edizione della perdonanza partono i lavori di progettazione importante e poi successivamente i lavori di recupero. Per la riqualificazione complessiva del parco il progetto preliminare è già stato redatto e quindi possiamo immediatamente dopo la stipula ufficiale con Eni che avverrà il 29 di agosto possiamo iniziare tutte le opere per quanto riguarda la redazione del progetto esecutivo, il che significa che la tempistica sarà sicuramente molto più rapida rispetto alla Basilica. I tempi massimi comunque sono entro il 2016 e con delle priorità che sono state date perché a fronte di una sponsorizzazione Eni per 2 milioni più IVA per quanto riguarda il parco riusciremo a realizzare tutte le opere esterne, le opere di sottoservizi, la recinzione, tutta la riqualificazione che riguarda anche l'eliminazione delle barriere, l'irrigazione, tutte le parti esterne, l'illuminazione, tutto quello che consentirà la fruibilità piena e totale sotto questo aspetto e poi immediatamente dopo ci sarà la seconda priorità che è anch'essa finanziata da Eni che è la realizzazione del teatro all'aperto di Beverly Pepper, che sarà il Teatro Verde.